Ciao a tutti, bentornati in un nuovo What's It in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Anche oggi faremo insieme ricette facilissime, buonissime e sane. Ma prima, se non sei iscritto al canale, ricordati di iscriverti. Mi trovi anche su Instagram con il nome Le Ricette di Jennifer. Partiamo dalla colazione, una colazione semplicissima e velocissima. Allora, è una ciotola di yogurt con della frutta fresca, frutta secca e un po' di burro di arachidi. Allora, ho scelto uno yogurt greco alla vaniglia, che mi piace tantissimo. Dopo aver messo lo yogurt, ci vado a mettere un po' di frutta fresca, in questo caso una bella mela arenetta. E sopra la mela ci metto un po' di frutta secca mista. Queste confezioni che vedete sono della marca D'Inunzio. Presto saranno disponibili online in un nuovo e-commerce. Quindi vi farò sapere più in là in un prossimo video come poterle acquistare. Ci metto anche un po' di burro di arachidi, il mio amatissimo burro di arachidi al cioccolato. E la mia colazione è pronta. Vi ricordo che se volete acquistare il burro di arachidi di Nutrae, vi lascio qui il codice sconto e il sito dove acquistarlo. Passiamo al pranzo. Oggi ho preparato delle polpettine. Queste sono delle polpette di ricotta e spinaci. Semplici, semplici. La prima cosa da fare è cuocere gli spinaci. Utilizzo gli spinaci con gli surgelati per fare prima. Li faccio raffreddare e sgocciolare dall'acqua. Devono essere ben strizzati. In una ciotola vado a metterci la ricotta. Poi gli spinaci freddi. Un uovo, un po' di sale, pepe, spezie vari. Mescolo bene. E infine aggiungo il pangrattato. Il pangrattato va un po' ad occhio in realtà. Quindi aggiungetelo a poco a poco fino a quando riuscirete a creare con le mani delle polpettine. Preparate anche il vostro sughetto di fiducia. Un sughetto al pomodoro andrà benissimo. Fate cuocere le polpettine all'interno del sughetto per circa 10-15 minuti. Poi vedete un po' quando sono belle sode e sono pronte. Ricordatevi di girarle di tanto in tanto. Però non le girate subito altrimenti si rompono. Quindi aspettate una decina di minuti prima. Allora passiamo allo snack. Sono dei cioccolatini ripieni di caramello. Questa è una crema proteica al caramello. Basteranno pochissimi ingredienti. Sciogliete del cioccolato fondente al microonde o al bagnomaria. E mettetelo all'interno di queste formine. Se non avete le formine in silicone utilizzate quelle in carta per i muffin. Quindi ricoprite tutte le formine per bene lasciando comunque la base dei cioccolatini un po' più alta. Quindi mettete un po' più di cioccolato. E al centro di ogni cioccolatino ci andremo a mettere la crema proteica al caramello. Se non avete questa al caramello potete utilizzare la crema che preferite, quella che avete in casa. Ricoprite con altro cioccolato fondente e mettete i vostri cioccolatini in frigo per almeno 30 minuti. Fin quando si raffredderanno e diventeranno di nuovo solidi. E questi sono i cioccolatini fantastici. Proprio quando avete voglia di cioccolato sono lì in frigo pronti per essere mangiati. Passiamo alla cena. Anche qui una cena semplice e veloce. Prepareremo insieme una piadina con un petto di pollo e un pesto di basilico. Allora, semplicissima, non è che ci vuole molto a spiegare come fare una piadina. Cuocete la carne in piastra, la piadina nell'altra padella. Fate un piccolo taglio di lato. Ci mettete in quattro strati il petto di pollo tagliato a pezzettini, un po' di insalata e un pochettino di pesto di basilico. A me piace tantissimo, giuro che col pollo ci sta benissimo. E la mia piadina è pronta. Spero tanto di avervi dato come sempre delle idee. Fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo What I Eat In A Day. Grazie. Grazie. Grazie.